Com'è? Dai, una settimana sei fuori, dai, una settimana sei fuori, va bene? Adesso stasera parli con l'avvocato, gli dici di fare istanza, eh? Per gli arresti domiciliari, al massimo un obbligo di firma, eh gente, che dici? Sì, giusto, giusto. Non fare quella faccia però, dai, stai tranquillo, stai tranquillo, davvero, eh? Vai tranquillo, tu adesso comportati bene e non glielo diciamo al tizio, va bene? Va bene. Prima spacci crocchette, poi della mente. Eh, spacciatore di crocchette, no, è vero.